Sono Fabio Musca, sono CTO di Another Reality e mi occupo di tutta la creazione dei progetti di mondi virtuali, videogiochi, metaversi che facciamo qui in azienda. Sono Serena Chiavelli, Creative Director in Another Reality. I mondi virtuali sono quei mondi che vengono realizzati con le stesse tecnologie con cui si realizzano i videogiochi, ma all'interno dei quali possono incontrarsi persone, non solamente come succede nei videogiochi, per divertirsi, ma anche per scopi più aziendali e più legati al mondo del business. Per la creazione dei mondi virtuali servono le competenze che arrivano dal mondo dei videogiochi. I mondi virtuali oggi sono utilizzati in molti settori, dal marketing alla moda, al turismo, fino ad arrivare in maniera capillare a settori anche più inaspettati, quali la psicologia o la riabilitazione. All'interno del Master in Visual Arts, gli studenti hanno imparato da zero a creare questi mondi virtuali. Hanno imparato a utilizzare software come Unity, Blender, un po' di programmazione e hanno creato il loro progetto. Lo hanno concepito, ci hanno lavorato, sono divisi in gruppi, fino a realizzare proprio delle applicazioni che funzionano in realtà virtuale, facendole testare alle persone proprio durante l'esame. Il mercato dei mondi virtuali è quindi un mercato in forte crescita ed espansione. Il consiglio che quindi ci sentiamo di dare ai visual artists di oggi e di domani è quello di tenere sempre un occhio sulle skills e sulle competenze richieste per la realizzazione di questi mondi. Grazie. 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 Grazie.